Questo è un ultrasuono, quello che riesco a produrre io, ci sono ultrasuoni più oltre a questo, serve per scetare non tanto la testa che sa più chi sveglia, ma per dare una strovatina a quei fedenti di merda della cosiddetta sinistra, che sono i fedenti di merda, attenzione, perché da colpa loro, noi, all'età media di 40 anni, pronti ormai per l'asfalta poetica che qualsiasi cantautore a 40 anni fa, trovatevi un cantautore che a 40 anni non fa l'asfalta che si concentra sui tramonti, nota il calore di un abbraccio, scrive degli scogli e della fottuta barriera con la lina che sta sotto, questo fa gli cantautori a 40 anni, noi per colpa di queste rote, perché di rote si tratta, di tutti questi signori, tutte queste fottute sono un miliardi di divisioni della sinistra, a 40 anni invece di parlare di Cartilli, dobbiamo continuare ad andare in giro per teatri, a dire mafiosi, corrotti, tituisti, fascisti, 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 fascisti! 2, 2, 9, 1, 9, 9, 1, un certo vuole tanto e male al centro per qualcuno, qualcuno che dagli ogni mesi anni sta lottando contro i miei di questo stato, una gabbia sta facendo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.